La tredicesima edizione delle Fonti Awards, che si è tenuta in una delle location di maggior fascino e prestigio a Milano, ha consacrato l'eccellenza del mondo imprenditoriale, legale e professionale, che si sono distinte per la rilevanza delle operazioni seguite, l'alta specializzazione e gli ambiziosi progetti messi in campo, senza dimenticare l'innovazione e la leadership. La premiazione è stata condotta da Yancor di Le Fonti TV, l'emittente punto di riferimento nel panorama dell'informazione finanziaria, economica e giuridica, che vanta una community fidelizzata di oltre 10 milioni di persone in oltre 125 paesi. Il premio è quello di eccellenza dell'anno, innovazione e leadership, progettazione software in cloud. E il premio va a Algomera. Per essere un'eccellenza in grado di traghettare le imprese italiane nel mondo digitale, per occuparsi di ogni fase del progetto, per ascoltare sempre le esigenze di ogni singolo cliente e per garantire costantemente supporto e assistenza. Complimenti ad Algomera per essere appunto il primo protagonista di questa categoria IT e tecnologia che insomma è proprio centrale. Assolutamente. Grazie, eccellenza dell'anno, innovazione e leadership, progettazione software in cloud. Algomera, grazie. Siamo in compagnia del dottor Francesco Buongiorno, Chief Operation Officer di Algomera. Benvenuto. Grazie, buonasera. Questa sera verrete premiati come eccellenza dell'anno nel settore della progettazione software in cloud. Ecco, come commenta questa importante vittoria? Siamo felicissimi, super soddisfatti di questo premio. In particolare, in primis, ringrazio sicuramente i nostri collaboratori che ci aiutano giorno per giorno a crescere, a incrementare la nostra struttura. Oltre al fatto di ringraziare anche tutti i nostri clienti che da nove anni scelgono la nostra società. Ecco, voi avete un headquarter a Brindisi e anche una sede a Milano. Il vostro obiettivo è un po' quello di traghettare le imprese verso il digitale. Ecco, ci racconta meglio la vostra storia? Algomera è una storia d'amore affascinante. Nasce dall'idea di un ragazzo ventenne che appunto è riuscito e riesce a offrire la digitizzazione in un piccolo paese, in una piccola regione come la Puglia. Negli anni, nel corso degli anni, è riuscito ad acquisire, insieme a diversi collaboratori, esperienze e alchimie intrecciate all'interno. Abbiamo esperienze come la UI UX Design, come lo sviluppo IT. Ci occupiamo principalmente di sviluppo software in cloud, oltre ad offrire esperienze interface per quanto riguarda e-commerce e app. Il nostro focus principale è la digital transformation, e quindi aiutiamo le imprese italiane a essere traghettate in questo mondo abbastanza complesso e lungo. Il nostro obiettivo è sicuramente quello di riuscire, nel corso appunto degli anni, ad aumentare le nostre risorse e a crescere sempre di più offrendo i nostri servizi. La nostra storia è una storia un po' travagliata, nel senso che siamo partiti letteralmente da zero. Quindi siamo comunque una società totalmente privata, dove l'80% dei ragazzi che compongono questa società sono trentenni. Cerchiamo giorno per giorno di offrire il meglio dei nostri servizi, aiutare le aziende a scalare il proprio business e a ottimizzare i processi aziendali. Ormai il 2023 è appena iniziato, ma voi avete comunque dei progetti per quest'anno, degli obiettivi che vi siete prefissati? Sì, il 2023 è iniziato già con... è iniziato bene appunto, in quanto abbiamo avuto già un incremento del fatturato del 40% rispetto all'anno scorso. I nostri obiettivi di quest'anno è sicuramente cercare di assumere altre risorse. Ci stiamo provando, infatti uno dei nostri sogni è quello di aprire comunque un'academy per quanto riguarda tutta la parte IT e tutta la parte di UIUX, per poter dare la possibilità comunque ai ragazzi giovani, giovani come noi, di entrare in questo mondo in maniera giusta e corretta. Quindi comunque uno dei nostri obiettivi che ci siamo posti quest'anno è nel range comunque dei quattro anni, quello di assumere almeno il 30% in più delle risorse che lavorano all'interno con noi già. Oltre al fatto che sicuramente uno dei nostri obiettivi è quello di aumentare il nostro fatturato e quindi avere la possibilità di acquisire nuove aziende, nuove appunto sfide.